Questo programma è offerto da Tecnocampus Mercoledì 3 aprile, buongiorno da Teleprima benvenuti anche in questa mattina nella quotidiana Rassegna Stampa che come sempre è offerta da Tecnocampus Anche oggi vediamo che tanti sono i fatti in primo piano ovviamente le testate nazionali riportano tutte quelle informazioni che proprio tra ieri e questa sera, questa notte, la notte scorsa praticamente che cosa hanno fatto? Hanno dato elementi importanti per poter dibattere nuovamente e quindi si parlerà di economia, di Brexit ma soprattutto in primo piano vediamo Revenge Porn, ossia una legge che tutela adesso chi comunque subisce un ricatto o comunque una molestia, definiamola così, nel momento in cui viene inviata una foto o un video privato e viene immesso appunto nel circuito web o comunque viene diffuso in qualsiasi forma ma insomma cominciamo a vedere proprio dalle prime pagine dei quotidiani nazionali tutti questi fatti e vediamo innanzitutto col Corriere della Sera quali sono le notizie in primo piano e vediamo che proprio si parte da Tria, spazzatura contro di me Juncker vede Conte e critica alcuni esponenti del governo italiano e dice bugiardi sull'Europa e ancora vediamo che parla proprio il ministro assediato dal Movimento 5 Stelle, attacchi alla mia famiglia, dice ma io resto Movimento 5 Stelle all'assalto del ministro dell'economia Giovanni Tria ma lui accusa spazzatura contro di me e aggiunge che dai 5 Stelle sono partiti attacchi alla mia famiglia ma io resto La diffidenza dei 5 Stelle verso il ministro Tria non nasce in questi giorni ma si è progressivamente radicata nei mesi di governo Non a caso gli attacchi più duri sono iniziati a settembre Presidente della Commissione Unione Europea Intanto che cosa fa? Jean-Claude Juncker esprime al Premier Giuseppe Conte le sue preoccupazioni per l'Italia e accusa alcuni ministri sono bugiardi Un'accusa che comunque se trova fondamento, se troverà fondamento creerà non poche tensioni Ma ancora continuiamo a vedere la prima pagina di questo quotidiano e vediamo nell'editoriale i timori dei cittadini nell'editoriale Antonio Polizio La destra è la sfida della crisi La nuova destra ha vinto la guerra culturale sul fronte delle migrazioni La maggioranza delle opinioni pubbliche europee ha rifiutato di condividere i propri sistemi di protezione sociale con i nuovi arrivati dell'Africa I governi con scelte sempre più nazionali e sempre meno comunitari hanno chiuso porti e frontiere interne il partito dell'accoglienza è stato sbadragliato ovunque la sinistra socialdemocratica ha pagato il prezzo più duro Perfino il Papa, pensate un po' secondo questo attacco che viene fatto da questo articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera è finito in minoranza insomma una dicitura, un'affermazione che comunque non lascia sperare bene ma che comunque rende benissimo la situazione Ed ancora vediamo, ci spostiamo sul clima che si respira in Gran Bretagna infatti la May si affida a Corbyn per evitare il caos Brexit il rischio dell'uscita senza accordo infatti Teresa May fa appello all'unità nazionale e chiede aiuto a Jeremy Corbyn il leader dell'opposizione laborista per evitare che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea il 12 aprile senza alcun accordo la Premier incontrerà l'avversario per una strategia che possa essere approvata dal Parlamento una sorta di soft Brexit il divorzio morbido se accordo non ci sarà May dovrà passare la mano al Parlamento l'obiettivo è arrivare al vertice europeo del 10 aprile con una nuova proposta che garantisca una proroga ordinata della Brexit se no il 12 aprile si stacca la spina e infatti questa è la situazione che si presenta per quanto riguarda la Brexit la decisione di uscire è stata presa tempo fa adesso però le condizioni per cui porteranno a questa uscita non sono favorevoli secondo quello che viene definito appunto dalla Gran Bretagna e la situazione è ancora molto molto complicata ed ancora ci manteniamo ancora sul settore estero Algeria i militari spodestano Butteflick avvia dopo 20 anni le proteste e le dimissioni e nella parte centrale della pagina vediamo una fotonotizia che parla da sé il test in Formula 1 Mick ha fatto il secondo miglior tempo delle prove stiamo parlando di Schumacher ma questa volta del figlio lo sguardo di Corinna su Schumi Junior che sfreccia la mamma occhiali scuri sul naso forse per nascondere meglio le emozioni figlio e Mick sfreccia sulla Ferrari in Bahrain dove staccherà il secondo miglior tempo delle prove lei Corinna Schumacher moglie del 7 volte campione del mondo Michael osserva tutto dal muretto e ancora vediamo proprio in primo piano il voto alla Camera ora tocca al Senato reato alla vendetta con i videoporno sia all'unanimità tutti d'accordo maggioranza e opposizione passa così la legge che introduce il carcere con pene previste da 1 a 6 anni per i ricatti sessuali con l'utilizzo di video postati sulla rete il cosiddetto revenge porn inoltre previste condanne da 8 a 14 anni di carcere per lo sfregio al volto mediante lesioni permanenti salta invece la norma sulla castrazione chimica che se accettata dallo stupratore avrebbe aperto la porta alla sospensione della pena come proposto dalla Lega sono queste le novità introdotte dal codice rosso la legge per arginare la violenza sulle donne e ancora vediamo le altre notizie calpistati i panini dei Rom Roma rivolta a Torre Maura ma questo lo vedremo proprio sulle testate che ci racconteranno i fatti proprio dalla capitale è giusto per raccontare quelle che sono le vicissitudini sempre più in primo piano e ancora continuiamo a vedere le altre testate nazionali ci spostiamo adesso su Il Fatto Quotidiano e vediamo nella parte alta della pagina il kamikaze provoca i 5 stelle eppure la Lega l'amica ai truffati Tria si fa esplodere in pieno governo si tiene la consigliera Bugno trasferita all'Asi e non firma i rimborsi alle vittime delle banche i risarcimento per i crack bancari spariscono dalle bozze del decreto crescita la manager di fiducia del ministro resta al tesoro ma invece della poltrona in STM ne avrà una all'agenzia spaziale e intanto per il tesoro la nomina di sacce Palermo CDP spinge il suo amico questa è la prossima battaglia e ancora vediamo Roma assediata vertice all'ambiente raggi denuncia IPM roghi e bandi deserti costa avvertimenti e intanto Lox e Juncker i migliori amici dei giallo-verde e nella parte centrale della pagina il casaleggio gli sponsor vicini ai 5 stelle rider, bus e internet finanziano l'analisi sull'e-commerce aziende i cui destini sono legati al governo e infatti tra i finanziatori c'è Deliveroo che sta trattando le regole per i fattorini con Di Maio e uno degli enti che faranno la formazione legata al reddito di cittadinanza e dal Washington Post soldi e villa ai figli di Khashoggi Royad li paga per tacere e ancora vediamo nella parte sinistra della pagina casta del capitano Verdini il suocero che sussurra a Salvini e ovviamente la relazione tra i due è collegata proprio alla figlia di Verdini che sarebbe appunto la compagna di Matteo Salvini e intanto le riscosse social allora Matteo perde pure con la Boldrini ed ancora vediamo nella parte più bassa stupidi falò nuovi cattoroghi Harry Potter bruciato in Polonia insomma una vicenda che sembrava accantonata nel senso che credevamo di essere in tempi moderni e invece ci riscopriamo grazie all'informazione che arriva dal mondo ma neanche un mondo così lontano anzi piuttosto vicino perché stiamo parlando della Polonia vediamo che c'è un rogo questa volta che riguarda la cultura e tra i libri che sono stati bruciati pensate un po' c'è anche il maghetto Harry Potter perché ritenuto pensate proprio la definizione che ne è stata data viene ritenuto blasfemo e insieme a questo testo tantissimi altri insomma veramente un passo all'indietro che sembra sconcertarci tutti e ci lascia senza parole e ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano e ci spostiamo adesso sul quotidiano libero la sua colpa è saper contare obiettivo silurale tria Movimento 5 Stelle vuole addossare al ministro la responsabilità dell'ormai inevitabile aumento dell'iva e della mancanza di soldi per mantenere le pazze promesse della campagna elettorale e ancora l'occasione persa castrazione chimica Salvini rinuncia per salvare il governo e vediamo proprio ieri il Parlamento avrebbe dovuto votare la castrazione chimica per quelli che violentano e abusano proposta dalla Lega invece all'ultimo momento la legge è stata ritirata e archiviata a noi il provvedimento piaceva poco anche se riconosciamo che aveva un senso coloro che sono stati condannati per i suddetti reati sottoponendosi alla cura che rende impotenti avrebbero potuto evitare la pena detentiva nessuna costruzione una scelta volontaria all'insegna del meglio mosci che reclusi ci domandiamo come mai il carroccio abbia fatto marcia indietro e la risposta è una sola una eventuale bocciatura del testo innovativo avrebbe forse provocato la caduta del governo senza escludere che l'opposizione per fare un dispetto ai grillini ostili alla castrazione magari avrebbe votato proprio in favore dei salvignani allo scopo di incendiare Laura e magari l'esecutivo ma queste ovviamente sono solo elucubrazioni che vengono fatte comunque da questa testata in particolare da Vittorio Feltri ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina il commissario dell'Unione Europea vuole fregarci di nuovo e Juncker infatti vaneggia ancora l'Europa adora l'Italia e intanto De Luca ha capito tutto reddito grillino una truffa in Campania un sussidio su tre pensate un po' non è dovuto e arriva a questo appello infatti dopo aver perso la guerra con la grammatica Gigino Di Maio rischia una disfatta anche nella campagna per il reddito di cittadinanza il vicepremier in effetti potrebbe diventare la vittima della più grande truffa della storia d'Italia e anche questo lo vedremo nel corso della giornata ed ancora nella parte destra della pagina nei casi di Torino e Sesto dare ai migranti la cittadinanza non impedisce che ci uccidano la notizia che ha colpito tutti in questi giorni è che un giovane marocchino con passaporto italiano ha ammazzato a Torino il primo coetaneo che capitava a tiro poiché si sentiva depresso e aveva un sacco di guai familiari situazione peraltro comune a molti è insomma una vicenda che ci ha lasciato tutti i sgomenti ma soprattutto che ci apre tantissimi interrogativi ovviamente non stiamo parlando della questione della cittadinanza quanto piuttosto della questione mentale e soprattutto della facilità con cui si uccidono le persone ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina un'altra notizia brutta in primo piano che comunque in questi giorni continua ancora a far discutere non era affatto un bimbo l'amavo non l'ho stuprato l'interrogatorio all'infermiera di Prato e dice non l'ho violentato l'ho amato aveva 14 anni non 13 volevo lasciare mio marito per lui fare altri figli sono una mamma non un mostro due ore e mezzo di interrogatorio per provare a togliersi di dosso quell'onta nel marchio della pedofilia che più di mezza Italia le ha gettato addosso insomma queste sono le parole dell'infermiera la 31enne di Prato che ha avuto appunto un figlio da un giovanissimo e adesso comunque è protagonista di questa vicenda che è diventata una vicenda giudiziaria ovviamente perché il ragazzo è minorenne ed ancora ci spostiamo su il tempo e vediamo nella parte alta della pagina proprio la notizia che anticipavamo prima arrivano i rom torre maurea in rivolta barricate e cassonetti dati alle fiamme dai residenti contro il trasferimento e intanto De Vito controllava la giunta raggi titolare all'urbanistica Luca Montuori svela il sistema di pressione su sindache e assessori assisteva personalmente alle riunioni e in sua assenza mandava lì uomini del suo staff e intanto vediamo nella parte centrale della pagina operaio travolto al primo giorno di lavoro l'automobilista arrestato dopo la fuga ucciso infatti sul grande raccordo anulare da un pirato ubriaco e drogato ingiusto prendersi uno come Francesco titola appunto questa testata ed ancora ci spostiamo per quanto riguarda la politica e soprattutto la comunità europea Ira di Juncker Grand Bugiardi i vostri ministri vertici appunto con Conte a Palazzo Chigi e intanto la mozione Lega e Movimento 5 Stelle al Senato Blitz farlocco sull'oro di Banca Italia e nella parte bassa Gran Premio all'Euro il 13 aprile la sindaca in Campidoglio benedice la formula E e nella parte bassa della pagina vediamo che cosa invita a fare Papa Francesco siate rivoluzionari sposatevi il Papa ai giovani scegliete il matrimonio il sesso è un dono di Dio scrive in una lettera e dice vi incoraggio a scegliere il matrimonio vi chiedo di essere davvero rivoluzionari e questo che chiede appunto Papa Francesco ma probabilmente oggi i giovani non solo non sono così rivoluzionari come dice proprio il Papa ma probabilmente lo sono molto di più anche perché scelgono tante alternative nella vita ma il matrimonio viene scelto soprattutto per amore questa è la domanda che vi pongo a voi è questa la ragione del matrimonio o ce ne sono altre e allora se è veramente questa allora in quel caso sarà sicuramente rivoluzionario ma attenzione perché oggi sembra davvero che l'amore stia scemando e ancora vediamo le altre notizie in primo piano la Repubblica Bersaglio Tria Di Maio e Salvini lo contestano si sbrighi con i rimborsi ai risparmiatori il Quirinale basta attacchi e il Presidente dell'Unione Europea Juncker chiede misure anticrisi a Conte e parla di ministri italiani bugiarli quali saranno questi ministri e ancora vediamo nella parte sinistra le scelte che mancano a Zingaretti e intanto un'intervista la proposta di Landini segretario Cigelle un contributo di equità per rilanciare gli investimenti e ancora lo scandalo dei cantieri senza Minguini e nella parte centrale della pagina proprio questa vicenda che è avvenuta a Roma niente pane Rom casa Pound fomenta la rivolta e intanto vediamo che le cose in Italia non cambiano infatti l'Aquila dieci anni dopo ancora vede le sue macerie insomma una situazione che ancora non cambia dopo tanti anni dopo un terremoto devastante dopo che hanno sepolto i loro morti adesso la città continua ad essere ancora in breccia insomma attenzione perché questo è una realtà che ci troviamo a vivere ogni giorno e proprio su questo dovremmo puntare questo dovrebbe essere il vero cambiamento ossia la ricostruzione per quanto riguarda la rassegna stampa facciamo un po' di pausa ma ritorniamo subito dopo qualche attimo di pubblicità quindi mi raccomando come sempre non andate via non andate via Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Grazie a tutti. E' intanto nella parte centrale della pagina lo stupidario dei neogrillini, che la forza sia con me, gli aspiranti europarlamentari Movimento 5 Stelle proprio in prima pagina e vengono definiti proprio così. E' ancora preoccupazione di Ox, FMI e Banca Italia sui conti a un assedio mondiale di un car duro, ministri bugiardi. Intanto la Nato fa 70, ma l'atlantismo serve ancora. E nella parte bassa della pagina, sei anni a chi pubblica foto hard dell'ex, i porno ricatti diventano reato e mai più sconti agli assassini. Intanto nella città dei 5 Stelle, bombe minacce, Torino ripiomba in un incubo da anni 70. E nella parte bassa della pagina, eccoci qua, dopo il caso di Torino, insegnante denunciata a Verone. Il secondo caso è infatti stiamo parlando di un'altra prof che tira calci e sputi ai poliziotti a Padova. Un'altra docente attivista dei centri sociali, già nota le forze dell'ordine, è aderente al movimento femminista. Non una di meno ha voluto emulare l'ex collega torinese che nel febbraio dello scorso anno aveva augurato la morte agli agenti durante un corteo. Venerdì sera nel corteo di una manifestazione organizzata nel centro sociale contro Forza Nuova, la docente, questa donna di 30 anni, di origine veronese, ha calciato, sferrato pugni e ha tentato di mordere i poliziotti. La donna è stata denunciata per resistenza pubblico ufficiale, mentre aveva precedenti per associazione a deninque, occupazione abusiva e violenza. Durissimo il commento del ministro dell'interno Matteo Salvini, una persona del genere può fare l'educatrice, nessuno può permettersi di insultare le nostre forze dell'ordine. Insomma, e io direi proprio così, una docente, ma in generale una persona, può insultare le forze dell'ordine, ma non solo le forze dell'ordine. Insulti, sputi e atteggiamenti simili possono essere compiuti nei confronti di chi che sia. Insomma, prendiamo proprio in esame questa situazione. Chiunque voglia protestare è liberissimo di farlo, ma lo faccia nelle forme e nei tempi e soprattutto nei modi corretti, rispetto reciproco. Questa è la realtà e questa è la situazione di oggi. Cosa farà Matteo Salvini? Lo vedremo. E soprattutto gli insegnanti di oggi, quale potere hanno sui propri studenti, ma soprattutto sono davvero capaci di essere sopra le parti, perché probabilmente questo dovrebbe essere il loro ruolo. Ed infine vediamo un batterio da record, il computer che fa Dio e crea la vita artificiale. Anche questo è un titolo che ci lascia piuttosto perplessi, ma è una realtà sempre più evidente, perché a quanto pare il nostro Dio è divenuta proprio la tecnologia, ma non quella che fa bene. Quella smudata, quella che non ci consente e soprattutto non ci dà la possibilità di scegliere, ma non per colpa della tecnologia, ma per colpa nostra, perché noi siamo diventati sempre più affini a quello che è far scegliere gli altri. E ancora passiamo al messaggero, crescita, attacco, Movimento 5 Stelle a 3, a scontro al governo, decreto slitta, Di Maio, troppe lacune, sanatoria, assumute tasse locali e Juncker a Roma. Rischio, manovra abisso, procedura, certi ministri bugiardi tacciono, pensate un po', sui fondi dell'Unione Europea. E intanto vediamo i paradossi grillini, il boomerang delle auto blu, così naufraga la competenza. E ancora video hot privati, sì unanime, carcere per chi li mette in rete, multe e pene fino a sei anni. La castrazione chimica invece esce dal testo. E intanto un'intervista al ministro Grillo, nel carroccio visioni estremiste e dall'Aquila, dieci anni dopo, casa dello studente, l'università assicura, la faremo rivivere. E intanto nella parte centrale Torre Maura, Raggi ci ripensa, li mandiamo via, Roma nel centro d'accoglienza, è una vera e propria guerriglia e anche Roghi a Roma. E intanto la parte bassa della pagina, tutta dedicata all'inchiesta su Parnasi, pressioni di De Vito in Campidoglio per pilotare gli appalti. Ed ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine, ci spostiamo su il mattino e vediamo vent'anni dopo l'autista di Einaudi, io con il principe da Rigoni Sterna Berlusconi. E il presidente della Lega Miciche, chi guarda le partite piratate uccide il nostro calcio. E ancora nella parte centrale della pagina, l'apertura è tutta dedicata a questa vicenda. Nel nome di Tiziana, la porno vendetta su internet è reato, la legge passa all'unanimità. E questa notizia, siccome è così importante, l'andremo a vedere dopo nei particolari. Ed intanto vediamo il commento, quei video ancora sul web e la vera stretta che manca. Insomma, video che comunque hanno cagionato sono state la ragione per cui una donna si è suicidata e quei video sono ancora pubblici su internet. È possibile mai una cosa del genere? È possibile che qualcosa di così privato che è stato appunto lanciato in un mondo virtuale pubblico sia ancora presente a distanza di tempo dalla morte di questa donna? Riflettiamoci perché questa non è una vicenda che fa bene. Ancora vediamo nella parte centrale della pagina, crescita, c'è condono su multe e tasse locali. Juncker vede Conte e Mattarella, alcuni ministri bugiardi sui fondi europei. E da Bruxelles arriva il diktat. Manovra bis. O prepariamo l'infrazione per debito e l'analisi, i conti esatti tra dare e avere. E intanto vediamo le altre notizie. Eccoci qua il dibattito. Il nuovo triangolo industriale del mezzogiorno più innovazione solo con il sud inizia a crescere. Era il titolo del bell'editoriale del professor Veraldo sul mattino di ieri. Ma a quanto pare siamo ancora distanti. Intanto vediamo nella parte destra della pagina due notizie che vengono proprio da Napoli e dalla sua provincia. Il caso nozze trash, la multa beffa, solo 500 euro e non più 30 mila. Le nozze del neomelodico Toni Colombo, dopo le polemiche, arrivano gli errori dal Comune. Avevano preventivato sanzioni che dovevano arrivare fino a 30 mila euro per l'allestimento del pacchetto al plebiscito. Ma conti fatti, le multe possibili. Quella per la manifestazione e ancora Canora. L'intralcio al traffico e la mancata esposizione della targhetta della carrozza arriverebbero al massimo a 509 euro. Anche questo lo vedremo dopo. E intanto da Torre del Greco i passi Unicef in cambio dei voti per il Comune. Soldi. Ricordate l'ultimo Sanremo, la canzone di Mahmood. Soldi, soldi, soldi. Ma non solo soldi, anche pacchi alimentari Unicef, posti di lavoro e anche tempo determinato e promesse per assunzioni in cambio di che cosa? Di voti. Insomma, una vicenda che porta alla luce quanto è stato in realtà fatto durante le elezioni amministrative proprio per portare quella che si suol dire acqua al proprio mulino ma semplicemente voti con le cifre irrisorie che sembrano davvero lasciare quell'onta di populismo, lo vogliamo definire così, che lascia proprio un'impressione del nostro essere così miseri da accettare a qualsiasi sobbia pur di avere qualcosa. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo sulla parte bassa della pagina, una notizia che arriva dalla provincia di Caserta. Ci spostiamo infatti a Sessarunca all'ospedale senza licenza e con i medici assente isti. Una vicenda dopo l'altra. Un accordo tra i medici dell'ospedale di Sessarunca per timbrare il cartellino e coprirsi durante le assenze truffando in questo modo l'asla di Caserta, una sorta di patto illecito di mutuo soccorso emerso dall'indagine della procura di Santa Maria Capo Avetre che ha coinvolto 28 persone, tra cui 16 medici dell'ospedale casertano e 2 del policlinico Federico II. Gli altri 10 indagati sono amministrativi e infermieri carabinieri hanno anche scoperto che la struttura, pensate un po', non aveva le autorizzazioni. Ed intanto vediamo che la Campania, soprattutto il Beneventano, si prepara alla visita del Pontefice. Napoli, il ponte del Papa, verso l'Islam, un viaggio breve di chilometri e durata, l'annunciato ritorno il 21 giugno prossimo di Papa Francesco a Napoli e più di ogni altro inusuale con il Papa in veste di relatore, seppure tra le mura di casa della Facoltà Teologica di Posillipo, sezione San Luigi tenuta dai Gesuiti e la relazione è subito dopo la presentazione del documento proprio sulla fratellanza umana. Insomma è un'attesa per i prossimi mesi di questa visita in attesa, in un primo tempo adesso sempre più attesa, ma che dovrebbe essere solamente una visita privata. Comunque lo vedremo nel tempo. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali, ci spostiamo sul manifesto Brexit, May tenta un'altra proroga a estensione fino al 22 maggio e la Premier promette dialogo con Corbine. Entranto per l'Italia l'incontro con Conte Juncker ora a investimenti e nell'articolo di apertura nessuno deve sapere. Un gommone con 50 migranti scompare a largo della Libia, la guardia costiera di Tripoli segna l'azione troppo vaga per mandare una motovedetta. Senza più le navi delle ONG ormai nel Mediterraneo si muore senza lasciare traccia e l'Olanda blocca anche la Sea-Watch. Insomma questo è un allarme sempre più cruento, sempre più brutto, che racconta una vicenda, una situazione sempre più tragica. E ancora ci spostiamo sul dubbio in apertura intesa sul porno ricatto. La vittoria delle donne alla Camera vota all'unanimità fino a sei anni di carcere con una convergenza praticamente inedita per la legislatura. La Camera approva la norma che punisce il revenge porno, sia la diffusione di video foto a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona interessata. Il nuovo reato che prevede una pena da uno a sei anni di carcere è frutto dell'accordo tra la maggioranza che avrebbe voluto occuparsene con un autonomo testo in Senato e l'opposizione. Il risultato 461 sì e nessun voto contrario su un emendamento che tecnicamente completa il DDL sul cosiddetto codice rosso per le indagini relative alle violenze di genere. E ancora nell'editoriale di Carlo Fusi, ma del ceto medio non se ne occupa proprio nessuno, è impossibile non cogliere il sottile sarcasmo di Jean-Claude Juncker quando con a fianco il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega di essere leggermente preoccupato per il fatto che l'economia italiana continui a regredire, che poi è diventato insulto, i ministri italiani sono bugiardi. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina la legge che ferma i disconti di pena abolito l'abbreviato per i reati da ergastolo. E intanto quell'insopportabile, irrascibile, indispensabile, radio radicale e errore tagliare fondi per il loro servizio pubblico. E infatti dice proprio così Sergio Vazzania, che fastidiosi questi di radio radicale sempre con il dittino alzato a spiegarti da che parte gira il mondo senza pensare a come è andata a finire al grillo parlante. E poi a sparlare di tutti, a cominciare dai titoli di stampa e regime, quasi che fra noi il Cile di Pinochet l'unica differenza sia che qui vede l'Orsa Maggiore e lì no. Ed ancora vediamo le altre testate nazionali, vediamo la stampa, il manifesto sovranista di Salvini, la Liga annuncerà tra una settimana il gruppo che con la FD tedesca ha i xenofobi delle destre europee, intanto prosegue lo scontro tra il governo e le istituzioni e ancora vediamo quelli che vengono definiti i compagni di strada sbagliati. E nella parte centrale della pagina il ministro Costa sfida gli allevatori basta abbattere i lupi, che vediamo appunto ritratto in questa immagine. Ancora continuiamo a spiegare le prime pagine dei quotidiani, questa volta vediamo il sole 24 ore, nel DL crescita spunta la rottamazione di multe e tributi locali. E intanto risparmio e scontro anche sui rimborsi. Intanto la BNL di Viva Veneto sarà un luxury hotel. Eccoci qua, la vediamo proprio dalla città eterna questa struttura. Intanto in Cina la corsa delle PMI su Alibaba. E ancora vediamo che il credito MPS, anche San Sedono in vendita, piano cessioni a 7 miliardi. Intanto nella parte bassa della pagina Europa le priorità delle imprese, investimenti e anche infrastrutture. E continuiamo sempre sullo stesso tenore, ossia quello dell'economia e vediamo Italia oggi, multe, tasse locali, sanatorie, due mesi di tempo a comuni, province e regioni per approvare le delibere via le sanzioni e pagamenti rateali su tutte le giunzioni dal 2000 al 2017. E intanto nella parte centrale è stato ricostruito il vertice del PD, ma il partito resta in stato catatonico. E ancora nella parte bassa subappalto. Il tetto sale al 50%, ok all'appalto integrato e si alza a 200 mila euro la sogna per gli affidamenti con procedura negoziata. E intanto un buon orologio cinese a 12 euro, spedizione compresa. La logistica di Pechino brilla appunto per efficienza. E intanto vediamo i dati Unicredit, si parla di vino, il fatturato del vino italiano è di 11 miliardi, i produttori sono 45 mila. Ed ancora ci spostiamo sulle testate nazionali, questa volta andiamo a vedere lo sport. Inter senza pace sul Corriere dello Sport, intanto il Milan delude ancora, Corsa Champions apertissima, Altarino, e infatti avanti con il gol di Piatek, i rossoneri si fanno riprendere dall'Udinese, 1-1, un pari che riaccende la lotta per il quarto posto. Rabbia Gattuso, giochiamo frenati. Intanto Ken, gol e bufera. Moise firma il 2-0 e rivolto alla curva del Cagliari esulta in modo provocatorio. Piovono bui razzisti, allegri e imbecini da cacciare, Litte e Giulini ad Ani in tv. Ed intanto Mick sulla rossa, scusate, lo guida la mamma. E ancora continuiamo a vedere la parte sportiva. L'Inter ritrova i carri, i tifosi lo scaricano e spareggio con la Samp, i tifosi toro ci credono. Intanto sempre per tutto sport, nell'apertura di pagina due gol al razzismo. Altro che emergenza. La Juve domina Cagliari e conquista la 26esima vittoria. In 30 giornate sblocca Bonucci, poi ancora Ken che zittisce i bu, contestati con rabbia anche da Matuidi. Ma Giulini non ci sta. E a quanto pare non ci stiamo neanche noi per i cori razzisti. E ci auguriamo che si faccia presto qualcosa. E per quanto riguarda la prima parte della rassegna stampa ci fermiamo qui, però non finisce la rassegna stampa che continua dopo qualche momento di pubblicità con tutto ciò che viene dalla Regione Campania. Quindi non andate via. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus. Il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL. Viale Lincoln. Zona industriale. Ex San Goben Caserta. Tecnocampus. La soluzione al centro. Ben tornati ancora una volta in studio. Oggi è ancora mercoledì 3 aprile. Continuiamo a vedere i fatti in primo piano nelle testate nazionali e anche in quelle online particolari, quelle che riguardano la Regione Campania. e ci chiedevamo proprio questa mattina le universiadi a che punto sono. Visto che ormai ci siamo quasi, i giorni sembrano sempre più correre verso questa data importantissima per tutta la Regione Campania, ma facciamo il punto con il quotidiano online Repubblica. E infatti vediamo che per le universiadi siamo verso il rush finale per gli impianti, la scandone cambia volto e l'incognita San Paolo. E infatti vediamo proprio qui, benvenuti allo Stadio San Paolo, è cominciata così la visita dei delegati delle universiadi agli impianti della manifestazione. E il turno poteva che cominciare dal teatro della cerimonia di apertura del 3 luglio. L'atmosfera è serena, due pulma, 110 ospiti, accompagnati da Vincenzo Maria Genovese, Head of Venue Management, Gia Vaccaro e Filomena Smiraglia, curatrici del progetto San Paolo. Divisa ovviamente uguale per tutti, cappellino bianco, gile giallo, fosforescente e l'immancabile smartphone per immortalare lo stadio di Diego Maradona. Ma al momento si è lavorato più di immaginazione, infatti la sostituzione dei sediolini partirà in base al cammino del Napoli in Europa League. La deadline del 18 aprile, ossia il ritorno della sfida con l'Arsenal, potrebbe essere rinviata a maggio dopo l'eventuale semifinale. Timori però non ce ne sono. La mondo che sia giudicata, la gara d'appalto, garantisce la sostituzione pure di 5.000 sediolini al giorno, quindi la fiducia è alta. L'impatto cromatico dunque cambierà, l'azzurro sarà prevalente nell'anello superiore, multicolore nell'anello inferiore. Qualcuno ha chiesto di poter dare un'occhiata agli spogliatori per un selfie. Ricordo, insomma, ancora tante cose da fare, ma i tempi ci sono. E ancora vediamo la bufera sull'ospedale di Sessa Aurunca, ospedale San Rocco, struttura sequestrata, ma anche un patto tra medici per timbrare il cartellino. 28 gli indagati, infatti è questo che è avvenuto in questo ospedale di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, coinvolto dall'indagine sui casi di assentinismo di numerosi medici della struttura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri dei NAS che hanno riscontrato la mancanza della prevista autorizzazione all'esercizio della struttura nosocomiale, oltre a carenze strutturali, funzionali, ma anche organizzative. La struttura continuerà comunque ad operare per evitare disagi ai utenti. Il legale rappresentante dell'ospedale e il direttore generale dell'ansla di Caserta, Mario Di Blasio, sarà denunciato per conduzione di struttura in assenza di autorizzazione. Intanto i militari del nucleo antisofisticazione di Caserta sono intervenuti a San Rocco insieme ai carabinieri della compagnia di Capua che nella mattinata di ieri hanno notificato i provvedimenti cautelari a 18 indagati, tra cui 14 medici della struttura ospedaliera di Sessa Aurunca. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano giù le mani dagli asparagi. In Cirento il paese che vieta la raccolta e non residenti. E questo arriva infatti a Roscigno. Il regolamento prevede un tesserino a pagamento per chi arriva da fuori il sindaco. Non accettiamo chi viene a depredarci. Insomma, gli asparagi selvatici che rappresentano veramente una preziosa ricchezza del nostro territorio troppo spesso vengono depredati perché non c'è la giusta tutela e per la prima volta ecco che avviene proprio questa situazione opposta ossia si pone un limite anche perché una volta raccolti gli asparagi che cosa rimane? Il nulla se non vengono raccolti in maniera adatta. E infatti non accettiamo chi viene a depredarci. E' proprio a dirlo il sindaco di Roscigno Pino Palmieri un piccolo borgo del Cilento contadino parte del territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni il singolare riferimento è proprio agli asparagi selvatici. Le piccole piante sempreverdi e cespugliose che si traducono in una miriade di ricette dalla saporitissima frittata alle torte salate che evidentemente fanno gola a tanti al punto da ispirare un regolamento ad hoc per la raccolta rinanciato dal primo cittadino attraverso il suo profilo Facebook si avvisa alla cittadinanza che la raccolta è consentita ai residenti di apposito tesserino gratuito e non residenti con tesserino a pagamento qualcuno storce il naso il sindaco però spiega convinto il nostro territorio deve essere tutelato e rispettato e il regolamento risale al 2008 l'asparago in prodotto legato visceralmente all'identità del Cilento ed è giusto regolamentare la raccolta prevedendo dei giorni ad hoc è insomma una buona notizia proprio per questo frutto della terra ed ancora da Torre del Greco voti comprati con 20 euro o un pacco Unicef coinvolti due consiglieri uno e un poliziotto 14 misure cautelari nell'inchiesta sulle elezioni amministrative del 2018 voti in cambio di denaro durante queste elezioni comprate per somme tra i 20 e i 35 euro e quanto hanno scoperto i carabinieri di Torre del Greco che hanno eseguito 14 misure cautelari messe dal GIP di Torre Annunziata gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata il voto di scambio elettorale voto di scambio e attentati contro i diritti politici del cittadino rivelazione e utilizzazione segreti d'ufficio favoreggiamento detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra e secondo quanto emerso dalle indagini che cosa è accaduto in occasione elezioni amministrative del 2018 aveva acquistato voti in cambio di somme di denaro appunto di genere alimentari o promettendo posti di lavoro previsti da un progetto regionale ed ancora andiamo a vedere gli altri fatti in primo piano si parla e abbiamo parlato lungo tutta questa rassegna stampa di revenge porn vediamo proprio nei dettagli di che cosa si tratta il settiziano a cantone attacca proprio così il mattino fosse nata negli anni 40 invece nell'83 forse sarebbe ancora viva non sarebbe diventata il simbolo di una nuova norma varata ieri dalla camera dei deputati sul revenge porn la subdua scelta di pubblicare immagini rubate nell'intimità che da oggi è un reato specifico con una pena massima fino a sei anni tiziana non avrebbe dovuto guardarsi dalle videocamere dei cellulari innanzitutto da quell'occhio sempre aperto che a volte fa più paura di una pistola puntata dal buco nero che il web riesce ad essere quando vuole quel pozzo senza fondo da cui spuntano continuamente i frammenti di una memoria eterna negli anni 70 alla tiziana trentenne sarebbe bastato distruggere il negativo di un video fatto in casa e magari cambiare quartiere per qualche mese cosa che ovviamente non è stata possibile però spezziamo una lancia a favore proprio per i tempi i tempi che cambiano ovviamente negli anni 70 negli anni 60 sicuramente le situazioni precarie erano altre ancora vediamo le altre notizie in primo piano nozze trash l'ultima beffa di Tony Colombo multa da 500 euro e non 32 mila infatti il sindaco di Napoli dice basta per me ora questa storia è chiusa per il semplice motivo che sono una persona seria e perché mi devo occupare di Napoli non posso continuare a costruire storie che non esistono la questione del matrimonio del cantante Tony Colombo sta diventando oppressiva per il primo cittadino che dopo la pubblicazione della foto del 2016 nella quale è abbracciato all'artista ha spiegato visto due volte Tony Colombo quando venne a Palazzo San Giacomo a portarmi l'invito a un suo concerto a cui andai poi a salutarlo ma senza restare non sono amico di Tony Colombo e però la vicenda rimane comunque intricata visto che la multa è notevolmente più bassa di quanto in un primo tempo dichiarato ed ancora vediamo che sempre per la coronaca Napoli primavera senza verde chiusi infatti 7 parchi su 13 la primavera a Napoli non è mai arrivata parchi chiusi transennati per larghi tratti o mal ridotti e non parliamo solo dei 13 giardini comunali ma anche di quelli municipali e storici 7 polmoni verdi del tuffo del tutto off limits problemi ovunque quindi anche nelle aree aperte dalla carenza di personale al rischio sicurezza che si trascina dalle tempeste dell'autunno scorso e anche di febbraio insomma una vicenda che lascia sempre più discussioni in merito ancora vediamo le altre notizie ci continuiamo a spostare sulla regione Campania in particolare andiamo a vedere il casertano la sua provincia e continuano le accuse a Don Barone infatti il racconto shock della vittima ascoltato in aula lo psichiatra che ha ascoltato la 14enne trauma per esorcismi brutali e presunti abusi sessuali e infatti non ricorda quasi nulla del suo passato dice appunto questo psichiatra dei suoi compagni di scuola del suo cagnolino della casa in cui ha vissuto per 13 anni a Madaroni e questo per il trauma causato dalle violenze e dall'illuminazione cui la sottoponeva Don Michele Barone questa è la conclusione a cui è giunto lo psichiatra Raffaele Sperandeo ascoltato nel corso del processo che vede alla sbarra con il prete del tempio di Casa Pesena accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti di una quattordicenne e di violenza sessuale nei confronti di altre due fedeli anche il dirigente del commissariato Madaronese Luigi Schettino ed anche i genitori della ragazza insomma una vicenda dai contorni sempre più estesi e ancora vediamo un di ieri sera un fatto di ieri sera che per l'ennesima volta ha destato l'attenzione di tutti infatti è scoppiato un incendio alla ricicla morisana fiamme e fumo nero ben visibili sul posto intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e infatti ieri sera ancora una volta fiamme e fumi tossici a ridosso di Caserta stavolta il rogo scoppiato alla ricicla morisana e lungo via Appia a confine tra i comuni di Caserta San Nicola la strada San Marco Evangelista ed anche Maddaloni ed è accaduto proprio che all'interno dell'azienda si è sviluppato un rogo che ha provocato una densa nube di fumo che si è issata in aria ed era ben visibile dai comuni circostanti insomma adesso si deve ancora capire che cosa sia effettivamente andato in fumo e soprattutto le cause di questo rogo ancora vediamo su Caserta prima pagina una notizia che riguarda la politica made in Caserta i tre uscenti sono ricandidati eccoli qua Caputo Picerno e Cozzorino cammineranno a terra una secca si pone proprio come interrogativo Caserta prima pagina e infatti per adesso si vocifera che cammineranno singolarmente ma dal centro direzionale F13 un forte vociferio di un candidato di Salerno pronto a scendere in campo e la domanda che si pone proprio Caserta a prima pagina è questa sarà vero e come al solito rincara la dose dicendo a saperlo e con questa ultima notizia termina la rassegna stampa di oggi e come sempre vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio anche Tecno Campus che ci ha offerto la possibilità di dare l'informazione in tempo reale a 360 gradi tra l'Italia e la Campania e soprattutto vi rinnovo l'appuntamento per la giornata di domani stesso posto stessa ora buona giornata a tutti grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecno Campus Grazie a tutti